Per questo volevo ringraziarvi, vi volevo ringraziare come primo cittadino di una comunità, una comunità che è stata colpita con circa 70 persone positive, 10 persone decedute. Per questo credo che il vostro lavoro per noi è stato molto importante, ma anche come persona che ha degli ideali. Per questo io vi ho paragonato durante il 25 aprile come i nostri partigiani e come persona, dato che io sono un vigile del fuoco, come i miei colleghi, che siete stati pronti a lavorare in situazioni difficili. Per questo avete dimostrato professionalità, avete dimostrato passione, avete dimostrato abnegazione, avete dimostrato soprattutto il coraggio, il coraggio di non perdere mai la testa e di essere sempre lì vicino alle persone da soccorrere. Per questo, a nome di tutta la mia comunità, ma penso a nome di tutto Sud Milano, volevo ringraziare i medici, gli infermieri, le OS, gli amministrativi, i paramedici, tutti questi che hanno dimostrato in questi giorni una forte abbenegazione al lavoro. Grazie mille. Allora, questa è una targa che abbiamo fatto noi come sindaci del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i comuni di Piero Emanuele, Basilio e Seziapoda. Vi siete consultati, com'è venuta l'idea? Allora, è venuta l'idea perché sentiamo tutti il bisogno di vivere insieme questi momenti. Noi anche come sindaci ci stiamo coordinando per fare delle azioni comuni dove possibile e cercare di coordinarci in questi momenti. Per questo abbiamo sentito tutti il dovere di affrontare insieme questo momento in tutte le sue fasi. Anche in questa occasione ci siamo trovati uniti a ringraziare i medici, gli infermieri e il personale che lavora qui in Emanuele.